Perché io quando cammino là, vedete come passo così, vedete mica mica sta dritto così, sta così, io sto in una posizione anomala per camminare. Se crede che io non riesco a fare la spaccata, lei si... La prima cosa poi è l'equilibrio, la spaccata è un'altra cosa, io sto sulla fontana, viste quella da qua, c'è una fontana stretta così, io sto in una spaccata, allora tanti c'è ebbela, no, prima l'equilibrio perché io sto così. Se c'è l'equilibrio, chi fa la spaccata casca di sotto, c'era la quarta così, io da ricattino camminavo sui gol, c'erano i roffini al circo, c'avevo 12 anni, io la mattina se faccio così, mica mi faccio male, io vengo così. Io sono stato a novembre con gli uricchegli su Sky e allora mi hanno fatto le domande, dice qualche cosa che è al piccio, ti chiedono, beh, dico c'è sta gente che mi dice, ho 40 anni e non riesco a lasciarmi le scarpe, perché io lo dico, io ti ho fatto qualcosa di farmi le scarpe. Però quando vado giù, non è che io ho un trucco, ammortizzo, ho creato quel movimento, vedete, io so, so, ammortizzatore quando va giù, non è buco, chi fa la spaccata fa così. Io l'ho allenata, camminavo in spaccata tanto tempo, per gioco, mano a mano però mi è venuto, la disciplina, la disciplina non la fa nessuno e lui è... Facciamo un po' di video, dai. E ora ne faccio qualche altro. Dai, ma te, così volete. Ma sei andando a scuola di pazzini? Non lo faccio mai. Vai. Dai, 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 dai. Ho riuscito a quello pure con Zepa. Prima non ci eri riusciti, li hanno modificati pure dentro. Vedi uno spoiler, ho messo il copeno qua. Il copo, me l'ha dato già lui, che l'ho togliato, l'ho messo dentro perché credo non lo guidavo. patinatore senza età grande prendi pure questo e questo l'ho tagliato l'ho modificato pure dentro ho levato la scarpetta l'ho abbassata ancora vedi qua l'ho recuperato se no era aperto una volta tagliato a 45 gradi e oltre era aperto ci ho messo pure rinforzo qui e la scarpetta pure l'ho tagliata davanti sennò non entrava perché è più corto vai facciamo attenzione fantastico grande france però non guarda fisicamente grazie